Buongiorno, buon venerdì 10 maggio a tutti. Pace e bene. Vi giunga davvero con tutto il cuore un affettuoso saluto, sorriso e una santa benedizione. Dobbiamo affrontare un'altra giornata e si sa, ogni giorno ha le sue gioie, i suoi sorrisi, ma anche capitano delle preoccupazioni, degli ostacoli, degli impegni. L'aiuto viene dal Signore. Noi siamo Suoi. Non dobbiamo mai dimenticarcelo. Io sono figlio di Dio. Tu sei figlio di Dio. Io e te siamo figli di Maria. Ora un padre e una madre, santi, buoni, giusti, amorevoli, donano la vita ogni giorno per i propri figli o per le persone a loro care. E Dio è la Madonnina nostra. Che fanno? Ci lasciano abbandonati a noi stessi? No. E allora andiamo da questo padre, andiamo da questa madre e diciamo Dio mio, Dio mio, abbi pietà e misericordia di me, mammina cara, mammina dolce, mamma del cielo, mamma mia. Non vedi questo tuo figlio? Oggi prendilo per mano. Aiutalo, sorreggilo, confortalo, abbraccialo, stringilo al tuo cuore. Cerchiamo le cose belle della vita. Cerchiamo le cose che aiutano il nostro cuore ad essere felice. Non perdiamoci nelle vanità del mondo. E a proposito, la conoscete la storia del diamante più grande del mondo? Non la conoscete? E ve la racconto io. Un giorno, un monaco che viveva di povertà e di vangelo, passando da villaggio in villaggio e nutrendosi di ciò che trovava, a volte anche di un semplice pezzetto di pane e di un po' d'acqua bevuto alle fontane dei villaggi e dei paesi, arrivò in un paese. Ma essendo tardi, non volendo disturbare nessuno, si sistemò un piccolo giaciglio sotto un albero. Al mattino seguente arrivò un uomo tutto ansioso, tutto agitato e disse dammi la pietra preziosa, dammi la pietra preziosa, dammi la pietra preziosa. E il monaco non capì. cosa dici, buon uomo? Ho sognato il Signore che mi ha detto, vai all'inizio del paese sotto l'albero, cioè un monaco, fatti dare la pietra preziosa. E il monaco rovistò nella sua bisaccia e trovò la pietra preziosa che aveva trovato qualche giorno prima ai piedi di una collina e dice forse è questa? Eccola, te la dono, è tua, fanne quella che vuoi. L'uomo pieno di gioia guardò questo diamante, il più grande del mondo, se lo portò a casa senza neanche ringraziare e salutare, lo posò sul tavolo. La sera si addormentò ma non riusciva a prendere sonno veramente, si girava e si rigirava, tanto da svegliarsi e da andare di nuovo la mattina seguente da quel monaco che trovò lì e gli disse donami la felicità che ti ha reso così libero da consegnarmi un bene così prezioso. Qual è la morale di questa storia? Noi cerchiamo la felicità, quella con la F maiuscola o cerchiamo e ci accontentiamo delle felicità del mondo. Pertanto siamo tristi se quello non ci invita, non ci saluta, non ci considera, non ci ringrazia, non ci prende in considerazione, ma cerchiamo la felicità, cerchiamo Dio, poniamo tutto il nostro essere nell'amore di Dio, lui, la vera gioia, la vera felicità, il vero amore. Pensateci, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti voi una santa giornata. Cercate la felicità. E nei vostri limiti, e nelle vostre possibilità, siate felicità per qualcuno. Vi voglio bene.